Allora, grande richiesta, vediamo come rendere abitabile una casa. Quindi partiamo da un cubo e proviamo a usare qualcuna delle tecniche che abbiamo visto nelle sessioni precedenti. Quindi supponiamo di fare una base un po' larga e poi di estrudere verso l'alto, fare una specie di secondo piano e poi S, Y, ecco, proviamo a fare una cosa, S, Y, supponiamo di aver fatto una casa a tre piani, questo è solo per dare un'idea. Allora, se noi tagliassimo questa casa, vedremmo che ha una sola superficie, quindi si vede soltanto da fuori. Ma se noi vogliamo renderla abitabile in OpenSim o in SecondLife, dobbiamo avere una doppia superficie. Allora, vediamo un attimo di capire, anche un po' visivamente, cosa significa avere una sola superficie. Per farlo prendiamo una delle facce che abbiamo fatto e la cancelliamo. Quindi cancelliamo questa faccia. Vedete che dentro la casa, innanzitutto, c'è la casa, insomma, questo sgorbio di casa che vi sto facendo vedere. È un po' strana, nel senso che, innanzitutto, vedete che è un po' scura. Questo scuro qua è dovuto al fatto che le normali sono sbagliate. Cioè, sbagliate. Avendo una sola superficie, si vede solo dall'esterno. In pratica, giusto per capirci, se noi facciamo la... Vedete che qui vediamo un po' dove puntano le normali, vedete che puntano tutte verso l'esterno. Quindi vuol dire che verrà vista solo dall'esterno. Se noi vogliamo che questa casa venga vista anche dall'interno, occorre dargli uno spessore. Questo spessore lo si può dare in molti modi. Alcuni del corso hanno ipotizzato l'idea di farne un doppione e rimpicciolirlo e poi usare il booleano. Ma questo video, anche per renderlo semplice, lo faremo in modo tale da usare una cosa che si chiama Solidify. Allora, Solidify è un modificatore, quindi lo trovate qua. E permette di appunto aggiungere dei muri, fondamentalmente uno spessore. Però prima di farlo, dobbiamo capire un po' tutte le stanze che vogliamo fare. Quindi cancelliamo un attimino ancora questa faccia e cominciamo a costruire. Quindi andiamo qua. Costruiamo delle facce per i pavimenti perché ci facciamo anche un pavimento qui al primo piano. F, usiamo F di faccia per fare questa faccia. E poi facciamo la stessa cosa anche al secondo piano, diciamo. Quindi avendo selezionato i quattro punti, se ce la facciamo, F, abbiamo selezionato le parti che ci interessavano. Poi rimettiamo un attimo le facce che avevamo tolto. Quindi chiudiamo di nuovo questa faccia, F, e poi uno, tasto destro, tasto destro, tasto destro, F. Quindi abbiamo questa casa in cui gli abbiamo semplicemente aggiunto le facce corrispondenti al nostro, a dove vogliamo che siano fatte le stanze. Allora adesso andiamo a fare quello che dicevamo. Quindi magari provvisoriamente entriamo in Edit Object Mode, andiamo sul modificatore e qui aggiungiamo un modificatore che sarà il Solidify. Il Solidify è un modificatore che, andiamo un pochetto, che di fatto aggiunge uno spessore. In questo caso ho aggiunto uno spessore di un centimetro, ma se magari qui facciamo Z, e poi clicchiamo... Sembra questo? No. No, forse dobbiamo essere in Edit Mode. No, non lo vediamo. Ah, forse perché è troppo fine. Quindi mettiamogli uno spessore non di un centimetro, ma gli mettiamo uno spessore di 0,2, 20 centimetri. Ok. Avendo messo thickness, spessore a 20 centimetri, quello che abbiamo ottenuto è fondamentalmente... Vedete che il modificatore ha costruito tutto dentro, quindi ha costruito sopra e sotto, diciamo, tutto uno spessore che ci permette probabilmente di utilizzarlo. Per vedere se è andato bene, andiamo in... Applichiamo il modificatore con Apply, ok? E poi andiamo a controllare che cosa è successo, no? Nella nostra casa. Quindi andiamo in Edit Mode. Proviamo di nuovo a selezionare questa faccia. Apriamo un secondo questa... Facciamo X faccia. E vedete che dentro ci ha effettivamente costruito questo... Cioè, praticamente l'ha rimpicciolito, quindi ha costruito questo strumento, no? Se togliamo anche questa faccia interna, giusto per capirsi, vedete che lui ha di fatto costruito un muro, no? Cioè, un muro interno. E se andiamo a vedere adesso come sono dirette le nostre normali, quindi rimpiccioliamo, vedete che ci sono delle normali anche verso l'interno. Quindi questa stanza sarà osservabile anche dall'interno. Se vogliamo fare la stessa osservazione anche qua, quindi cancelliamo queste due facce, vediamo che anche al piano di sotto abbiamo un raddoppio del... Vedete che c'è di fatto un raddoppio anche del piano di sotto. Quindi, in teoria, questo punto dovrebbe essere a posto. Quindi magari facciamo che... Facciamo CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, abbiamo fondamentalmente la casa fatta così. Quindi, giusto per capirci, se noi a questo punto vogliamo ritagliarci le nostre cose, facciamo sempre attenzione a vederla, a capire un po' dove sono i muri, e quindi se vogliamo costruirci una porta, delle porte e delle finestre, andiamo in Object Mode, Prendiamo un cubo, questo, che restringiamo, un tot, e cerchiamo di mettere, e accertiamoci che... Vedete che il cubo oltrepassi, S, Y, che oltrepassi i muri, in maniera da tagliarlo, e che non vada a cavallo delle scanalature che abbiamo fatto. Quindi, supponendo di fare la porta qua, ok, e poi facciamo SHIFT D, duplicazione Z, ce lo spostiamo, in modo tale da fare una finestra qua, per dire, magari facciamo S, Z, per fare una finestrella in questa posizione, poi facciamo ancora SHIFT D, poi facciamo SHIFT D, la portiamo anche al secondo piano, facciamo S, allora qui per estringerla, quindi, S, Y, poi facciamo S, Z, quindi diventa un pochino più corta, e poi possiamo anche, eventualmente, poi tagliarlo, per dire, se vorremmo poi fare delle scale, possiamo tagliare, quindi andare lungo la X, ruotiamo Y90, ok, e poi qui, per dire, scaviamo, qui, eventualmente, dove potremmo progettare, di fare la scala, quindi S, X, facciamolo, S, Y, ok, quindi facciamo un buco, un pochino più grosso, ecco, cerchiamo solo di evitare, di, di andare, sopra le righe, ok, e poi, se vogliamo fare un buco, SHIFT D, Z, la spostiamo anche sotto, e quindi dovrebbe aver forato anche il piano di sotto, ok, quindi a questo punto, quello che succede, è che se noi, Z, torniamo qui, vediamo che abbiamo il nostro taglio, selezioniamo la nostra casa, casa, selezioniamo un attimino il taglio, taglio, e poi applichiamo il boolean famoso, che ormai avete imparato, quindi selezioniamo la casa, aggiungiamo il boolean, e gli diciamo di fare la differenza, con il taglio, ok, quindi a questo punto, se noi facciamo Apply, e poi prendiamo l'oggetto, ah, il taglio non l'avevamo unito insieme, ecco, facciamo una cosa, quindi, scusate, perché erano appunto oggetti separati, quindi per ottenere gli oggetti insieme, dobbiamo unificare tutti questi tagli che abbiamo fatto, quindi selezioniamo, object mode, questo qua, poi selezioniamo questo, con lo Shift, questo, e questo, e poi facciamo Ctrl J, così abbiamo un unico taglio, e questo chiamiamo Taglio, ok, allora a questo punto torniamo Z, nella nostra casetta, gli riapplichiamo veramente il taglio, Apply, a questo punto, se selezioniamo il nostro taglio, e lo togliamo, vedete che a questo punto, abbiamo, vediamo che possiamo vedere dentro, ora questo, come abbiamo visto, è solo un esempio, adesso, nel prossimo, video, gli farò vedere come esportiamo, questo piccolo sgorbio di case, in modo tale da vedere, come apparirà in OpenSIM, prima,